Domenica 13 febbraio buongiorno a tutti e ben trovati anche questa mattina al nostro appuntamento delle sette con la rassegna stampa. Noi siamo pronti per dare un'occhiata assieme a voi ai quotidiani che troviamo oggi in edicola. C'è la cronaca in primo piano sulla stampa nazionale però poi vedremo anche su quella locale con la tensione sempre più alta tra Russia e Stati Uniti per quanto riguarda la crisi in Ucraina. Allora andiamo a vedere subito i titoli di apertura dei quotidiani nazionali con il Corriere della Sera che scrive tutti in fuga dall'Ucraina. Ecco il titolo di apertura del Corriere della Sera. Anche gli italiani lasciano Kiev, Biden e Putin. Se invadi la pagherai cara. Senza esito i colloqui tra leader mondiali, gli 007 americani dicono l'invasione è possibile fra tre giorni. Questa l'apertura del Corriere poi vedremo la notizia anche sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali. Ma adesso rimanendo sul Corriere della Sera andiamo a centro pagina e vediamo Paolo Conte, le canzoni, ricordi, un film sulla sua vita. Nella bara di mamma c'è il testo di azzurro, Paolo Conte racconta al Corriere la sua vita e quel testo di azzurro infilato nella bara della madre. Ancora andiamo anche sulla prima di Repubblica Ucraina, prove di guerra, titolare pubblica, centro pagina Biden e Putin in questo faccia a faccia a distanza. Biden telefona a Putin in caso di invasione Mosca pagherà con una grande sofferenza umanitaria. La replica isteria americana al culmine nelle mani dell'intelligence americana, i piani e le date di attacco russi. Via da Kiev, cittadini europei. Macron tiene aperto l'ultimo canale diplomatico. Mille soldati italiani saranno schierati con la Nato lungo la frontiera orientale. Ancora, sempre ai quotidiani nazionali, la stampa, Ucraina la pace appesa a un filo, titola la stampa. Abbiamo anche qui una foto che ci arriva dal confine fra Russia e Ucraina. E poi andiamo anche sulla prima pagina del manifesto, il gioco della guerra, titola il manifesto. Sull'Ucraina scontro telefonico Biden-Putin, gli Stati Uniti dicono l'invasione russa a giorni. La Duma discute l'indipendenza del Donbass, visto il fallimento dei colloqui sugli accordi di Minsk, contro i quali ieri in migliaia hanno manifestato a Kiev, ed è fuga da tutte le ambasciate. Ancora, andiamo anche sulla prima pagina del giornale. Ucraina, guerra di nervi, titola il giornale. Biden telefona a Putin, se invadete la pagherete cara. Il piano per evacuare 2.000 italiani a Kiev. Chiudiamo anche la prima pagina del giornale e andiamo a vedere adesso il gazzettino, uno sguardo a nord-est, anche qui in primo piano c'è la crisi. in Ucraina, o meglio l'alta tensione, fra Biden-Putin, ecco il titolo di apertura, Ucraina dura, telefonata tra i leader, la CIA attacco il 16, dice la Farnesina, italiani andate via, gli Stati Uniti pronti a tutto, pagherete cara un'invasione, il Cremlino replica, come abbiamo letto anche sugli altri quotidiani, isteria americana. E da Padova Kiev, Tosone, 53 anni, è padovano, presidente di Confindustria Ucraina, dice, torno lì, allarme eccessivo. Diamo un'occhiata anche alle altre notizie sulla prima pagina del gazzettino. Parliamo della riapertura delle discoteche, viaggio nelle discoteche riaperte, scrive il gazzettino, e poi vediamo ancora, si riaccendono le luci, i balli al tempo del Covid. Tanti hanno approfittato della riapertura dei locali, i gestori delle discoteche hanno fatto del loro meglio per garantire il rispetto delle regole. E poi per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, vediamo a centropagina Veneto Banca, al Via, il nuovo processo, 1800 i danneggiati consoli e altri quattro vertici a giudizio per truffa. Ieri prima udienza preliminare. E poi si parla di altre truffe, quelle per il super bonus, il bonus per le facciate, per la ristrutturazione delle facciate, record di frodi sul bonus facciate, bollino antitruffe allo studio del governo. E poi nel taglio basso, per quanto riguarda la cronaca, vediamo i funerali delle due giovani donne, morte in un incidente sulla 28, l'addio a Jessica e Sara. Zaia dice, punizione sia severa. Nel taglio basso, il caso Resinovic a Trieste, uccisa per soldi e il fratello di Lilli accusa un parente. Chiudiamo il gazzettino e, rimanendo sulla stampa nazionale, andiamo a vedere anche la prima di Libero. La complicità della RAI negli scandali a Report, scrive Libero in apertura. Otto domande sulla TV di Stato. Da Viale Mazzini a Palazzo Chigi fino alla Corte dei Conti, bocche cucite sul video che incastra Ranucci. La politica ha paura dei suoi dossier, scrive Libero. Libero. Andiamo anche sulla verità. Finte libertà per tenerci in gabbia, scrive la verità. Da martedì i cinquantenni lavorano solo se hanno il lascia passare. Hanno introdotto obblighi assurdi, dal coprifuoco alle mascherine all'aperto, dalla chiusura dei parchi al divieto di usare le capelliere negli aerei. Tutte misure inefficaci a frenare il virus, ma utili a soggiogare la gente. Così adesso basta togliere qualcuna per dare l'illusione della riapertura e centrare il vero obiettivo, il Green Pass eterno, scrive la verità. Andiamo anche sulla prima del fatto quotidiano. In questo caso l'apertura è su un'altra notizia. Vediamo il titolo. I referendum vanno bocciati. Ecco perché il costituzionalista D'Andrea li definisce quesiti illegittimi. Il Presidente della Corte crea sospetti prima di decidere i sei quesiti oltre ai due su eutanasia e cannabis. Questo è il titolo di apertura del fatto quotidiano di oggi. Andiamo anche sulla prima del sole 24 ore. Visco, basta aiuti generalizzati. Questo è il titolo di apertura del sole 24 ore con le parole di Ignazio Visco, Presidente Governatore della Banca d'Italia. Spazio e interventi limitati, ad esempio per l'energia, la ripresa riacquisterà forza, dice Visco, in questo intervento sul sole 24 ore di oggi. Andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere anche un quotidiano sportivo nella primissima parte della nostra rassegna stampa. E vediamo tutti e tre. Eccoli qua. Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport. E allora vediamo la gazzetta che titola Testa Calda. Il riferimento è alla vetta della classifica con il pareggio ieri tra Napoli e Inter. L'Inter resiste a Napoli. Oggi Milan dà sorpasso. Il segno di Zecco risponde a Insigne. Malautaro è un caso, scrive la Gazzetta dello Sport. Risponde a Insigne. Malautaro è un caso, mercoledì Liverpool, è il sogno del diavolo. San Siro alle 12.30 con la Samp, il trio Giro, Leao, Diaz, i rossoneri ritrovano Tomori. Andiamo a vedere anche la prima del Corriere dello Sport. Non finisce qui, titola il Corriere. Un tempo per parte, Zecco risponde al rigore di Insigne. Finisce 1-1. E oggi con la Samp, il Milan di Giroud per il sorpasso. Il pari tra Napoli e Inter favorisce Inzaghi, ma tiene aperta la corsa Scudetto, scrive il Corriere dello Sport. Per quanto riguarda le Olimpiadi, vediamo nel taglio basso, Moioli, argento di coppia e la Goggia pensa positivo. Secondo posto con Visintin nello snowboard. Arriva dunque un'altra medaglia per l'Italia dalle Olimpiadi di Pechino. Sofia Goggia fa le prove e punta la libera. Voglio esserci e coronare il mio sogno da bambina, dice la sciatrice. Andiamo a vedere anche la prima di tutto Sport in apertura nel taglio centrale. È un pari per il Milan, l'1-1 tra Napoli e Inter. E poi è stasera Atalanta-Juve, una notte Champions, scrive il tutto Sport. Nel taglio alto, il Torino, disastro toro, gallo scippato. Grande avvio, gol lampo di Breccalo, poi Granata spariscono e subiscono la rimonta del Venezia. Nel finale entra Bellotti e Giuwa, con la complicità del VAR, gli annulla il gol del pari per un fuorigioco di Pobega. Questi i titoli principali sul tutto Sport, vediamo anche qui nel taglio basso le Olimpiadi. Moioli, Visentini, Italia, d'Argento. Chiudiamo adesso la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo subito sulla stampa locale, piccolo, messaggero veneto, gazzettino, andiamo a vedere i titoli. in primo piano cominciamo con il gazzettino del Friuli e vediamo sul dorso del Friuli in apertura. In Friuli il vaccino che piace ai Novavax. Tra una settimana saranno distribuite le prime dosi del farmaco Novavax, simile ai comuni antinfluenzali. L'assessore Riccardi dice, speriamo di convincere quelli che non si erano vaccinati per timore dei prodotti a tecnologia MRNA. Questa, l'apertura del gazzettino, poi anche qui vediamo la ripartenza delle discoteche, ma il settore ne esce dimezzato. Andiamo a centropagina, dove vediamo una foto, la foto del centro tamponi della farmacia di Cussignacco a Udine, dove nei giorni scorsi sono intervenuti i NAS, sigili al centro tamponi della farmacia, ecco qua, sequestro preventivo del gazebo a Cussignacco. Su questa notizia, ma anche sulle altre notizie legate al coronavirus, andiamo a vedere il nostro servizio che ci riferisce anche di un intervento sempre delle forze dell'ordine per una festa a Maniago, dove non erano rispettate tutte le norme anti-covid. Poi i Novaks che sono tornati in piazza, in corteo a Trieste. Allora sentiamo il servizio di Davide Zanirato. Hanno organizzato un evento musicale con tanto di disjockey, pubblicizzato anche sui social, nel cortile interno di un locale di Maniago, creando un assemblamento di giovani, tutti senza mascherina. Ma non solo, il gestore del locale non aveva il Green Pass e a nessuno dei presenti era stato controllato il certificato verde all'ingresso. Per questo motivo, ieri sera, verso le 21.30, la questura di Pordenone ha predisposto un controllo all'osteria Vecchia Maniago, antica coltelleria. E' stabilito poi la chiusura per cinque giorni del locale. L'ufficio della Polizia Amministrativa sta procedendo a ulteriori approfondimenti in ordine alle autorizzazioni e alle licenze del pubblico esercizio. Stamattina sigilli anche alla struttura esterna della farmacia Montoro di Cussignacco a Udine. Dopo le indagini dei carabinieri del NAS è scattato il sequestro preventivo del gazebo Centro Tamponi in via Lea d'Orlandi. Il decreto datato 10 febbraio segue la sospensione dell'attività ordinata dall'azienda sanitaria Friuli Centrale il 9 febbraio scorso. La decisione era seguita all'ispezione effettuata pochi giorni prima da parte dei carabinieri del nucleo Tutte la Salute che avevano effettuato delle verifiche all'interno della farmacia. Già salita agli onori delle cronache nel mese di ottobre per la protesta del titolare che in un video diventato virale si scagliava contro i tamponi e contro il Green Pass. Lo sfogo era accostato l'ammonimento al farmacista da parte dell'ordine. Quest'ordine di sospensione ha fatto sapere Federpharma arriva a seguito di un provvedimento pendente presso la procura di Udine per l'ipotesi di reato nell'esercizio dell'attività dei tamponi Covid-19. A Trieste infine oggi si sono rivisti i No Green Pass con un corteo di protesta partito da Largo Barriera e poi snodato lungo la centrale via Carducci. La manifestazione lanciata attraverso il web dal coordinamento No Green Pass non era stata preavvisata. I manifestanti circa un migliaio sono stati scortati dalla polizia in tenuta antissommossa. Tra questi alla partenza si è rivisto anche uno dei leader della protesta Stefano Puzzer. I cori e gli striscioni i medesimi dei mesi scorsi con attacchi al governo e ai giornalisti. Torniamo adesso sulle pagine del gazzettino vediamo di spalla il caro bollette così il fotovoltaico ci risparmia la stangata e poi andando in montagna ski pass scontato per due giorni a settimana. Nel taglio basso il sindacato dei medici piano della sanità provocatorio ad oggi non abbiamo potuto vedere neanche una bozza dell'atto sindacale sottolinea l'associazione l'inter sindacale medica il segretario della NAO Assomed Friuli Venezia Giulia Valtiero Fregonese ecco il titolo e poi rifiuti caos bollettini il comune chiude il contratto e chiede i danni nel taglio alto vediamo i richiami alle notizie sportive e alle news che troviamo nelle pagine degli spettacoli per quanto riguarda il calcio a Verona match della conferma per Airacema dovrà aspettare tra poco come sempre andremo anche sulle pagine sportive e poi a teatro ditegli sempre di sì di De Filippo al teatro nuovo il labile confine tra salute e pazzia in programma in questa settimana chiudiamo le pagine del gazzettino del Friuli sulle quali ritorneremo tra poco per dare un'occhiata assieme alle pagine sportive e spostiamo adesso la nostra attenzione sul messaggero veneto cominciamo con il messaggero veneto di Udine vediamo i titoli di apertura ecco qui la prima pagina truffe del super bonus le ditte più controlli le categorie economiche sollecitano verifiche su cantieri prezzi e aziende e dicono chi sbaglia paghi questo il titolo di apertura del messaggero veneto che poi con la notizia la fotonotizia nel taglio centrale ci porta in Russia Russia e Ucraina a un passo dalla guerra scrive il messaggero e poi c'è la preoccupazione della comunità Ucraina in Friuli Venezia Giulia di spalla il caro energia con il caro carburanti mette in difficoltà anche i trasporti aumenti del 25% la cronaca in provincia Animis muore a 49 anni dopo il contagio non era vaccinato Tavagnacco in lutto per Sabrina aiutava i ragazzi in difficoltà spari e bastonate due uomini arrestati la pista sentimentale a Ravascletto in vendita allo storico hotel Bellavista riferimento per i bikers nel taglio basso gli spettacoli oggi al teatro nuovo Giovanni da Udine la prima delle nozze di Figaro ieri c'era stata la rappresentazione per le scuole le nozze di Figaro riportano a Udine la grande lirica questa è la prima pagina del messaggero veneto andiamo adesso sulle pagine interne la prima pagina del fascicolo dedicato a città e provincia 1.655.000 euro per la luce di uffici e scuole ora siamo preoccupati il sindaco dice rischiamo un impatto economico devastante lo Stato intervenga saremo costretti a ridurre illuminazione pubblica e riscaldamento e Pirone di Innovare dice il piano risparmio c'è ma non è stato avviato cambiamo edizione ma rimaniamo sullo stesso quotidiano messaggero veneto di Pordenone vediamo anche qui i titoli in primo piano in apertura e a centro pagina vediamo le stesse notizie allora andiamo di spalla e vediamo nuovo sistema di raccolta rifiuti a Pordenone e poi ancora inferma a 91 anni aspettava la terza dose di vaccino ci ha pensato l'esercito addio in musica alle giovani cugine uccise sulla 28 e a Maniago festa abusiva il questore chiude l'osteria vecchia come abbiamo sentito anche nel servizio nel taglio basso lo sport con il Pordenone che ieri ha perso a Parma il Pordenone si illude era in vantaggio ma poi si sfalda e il Parma fa poker tra poco andremo a vedere anche le immagini andiamo sulle pagine interne la prima pagina del fascicolo di Pordenone dove troviamo approfondito il titolo che abbiamo visto anche in prima pagina la notizia che abbiamo visto anche in prima pagina cambia la raccolta differenziata nasce il porta a porta misto dal 2003 si pagherà per quanto secco residuo si produce Ciriani parla di un modello in salsa Pordenonese nasce dunque il porta a porta a Pordenonese per la raccolta dei rifiuti andiamo adesso anche sulle pagine del piccolo di Trieste e vediamo anche qui le notizie principali c'è la cronaca con il caso Resinovic in primo piano Lilli tra fratello e marito accuse reciproche sui soldi scrive il piccolo spunta il figlio Pier Giorgio nella nota inviata alla procura chiedeva denaro la replica falso queste le ultime indiscrezioni sul giallo di Trieste così lo definisce il piccolo a centro pagina il nuovo centro congressi in Portovecchio ipotesi assemblea generali per l'avvio dei congressi ancora sempre sul piccolo ma cambiamo anche qui edizione e andiamo sull'edizione di Gorizia vediamo in apertura il voto sul sindaco il rompe il nuovo centro verso le elezioni comunali nell'Isontino due dell'Udc passano con la Lega per il Zibernabis a Monfalcone Morsolin candidata del centro-sinistra presenta il programma e poi la cronaca Roghi Dolosi c'è almeno un piromane a Gorizia scrive il piccolo chiudiamo adesso anche questa pagina del piccolo di Gorizia e iniziamo a approfondire le notizie sportive di oggi riprendiamo il messaggero veneto e andiamo a vedere in apertura del fascicolo sportivo le ultime sull'udinese di scena oggi a Verona alle 15 udinese appuntamento a Verona per cercare di fare il salto di qualità scrive il messaggero veneto e andiamo allora a leggere le prime righe dell'articolo di apertura che inizia così da una parte l'auspicabile salto in alto la possibilità di guardare al piano di sopra dall'altra quella maledetta classifica la sotto sempre più veloce mutante la scorsa volta per merito del Cagliari ieri sera dopo l'anticipo di Torino grazie a un Venezia che ha almeno momentaneamente abbandonato la terz'ultima posizione che è tornata a soli sette punti ecco il bivio davanti al quale si trova l'udinese prima della trasferta di Verona partita difficile ma non proibitiva un po' come era quella con il Toro che senza tirare in ballo la buona sorte e i bianconeri hanno saputo convertire in tre punti moneta sonante in questo momento della stagione e poi vediamo torna a disposizione Deulofeu dopo il turno di squalifica e dovrebbe fare coppia con Beto scrive il messaggero andiamo anche nella pagina successiva e vediamo le parole del tecnico abbiamo lavorato su certe soluzioni che ci aiuteranno a segnare D e più Cioffi ha svelato come e dove deve crescere la sua squadra d'ora in poi vediamo anche gli avversari le parole di Tudor i bianconeri fanno lo stesso calcio da dieci anni scrive dice scusate Tudor ancora rimanendo sempre sulle pagine del messaggero veneto andiamo anche nella pagina successiva dove trovano spazio le cronache dedicate agli altri risultati della serie A non basta un rigore per battere l'Inter il riferimento è appunto alla gara di ieri tra Napoli e Inter finita 1 a 1 gli altri anticipi la Lazio che ha battuto il Bologna per 3 a 0 e il Venezia che ha vinto a Torino per 2 a 1 ancora andiamo anche nella pagina successiva e vediamo l'Old Wild West esame di maturità per la palla canestro Udine che oggi sarà in campo a Pistoia a Pistoia sfida tra le squadre affiancate in testa alla classifica Giuri dice sappiamo che ci giochiamo una bella fetta di stagione e poi tornando al calcio il Pordenone Pordenone che ieri ha perso a Parma per 4 a 1 il Pordenone si illude ma poi entra Pandev e il Parma fa poker questo il titolo del messaggero veneto adesso andiamo a vedere il servizio che ci racconta come è andata nel dettaglio la gara di ieri il Pordenone culla il sogno di espugnare il Tardini ma alla fine la squadra padrona di casa con Gianluigi Buffon capitano alla meglio e vince per 4 a 1 nonostante all'intervallo il punteggio dicesse 1 a 0 Pordenone e infatti il Pordenone passa relativamente presto sugli sviluppi di un'azione dalla destra di serio raccoglie al limite dell'area avanza mira e calcia e porta in vantaggio il Pordenone Buffon impietrito e primo gol per l'attaccante ex Benevento arrivato proprio nel mercato di gennaio e 1 a 0 Pordenone al minuto 12 i Ramarri giocano bene con grinta e coraggio e vanno anche ad arpionare un pallone sulla tre quarti il pallone arriva a Cambiaghi che avanza serie di finte calcia col sinistro Buffon si distende e salva i suoi e il primo tempo come detto finisce 1 a 0 tra i fischi del Tardini Iacchini però le carte le ha e come in panchina allora manda subito in campo Pandev che decide di sistemare le cose al minuto 55 il Parma gioca sulla sinistra Vasquez riceve e mette dentro e proprio l'ex Genoa porta il punteggio sull'1 a 1 primo gol con la maglia del Parma appena entrato Goran Pandev firma il pareggio a questo punto il Parma ci crede e Simi sfiora il gol del 2 a 1 l'azione parte dei pili di Osorio viene chiusa con un lob proprio per l'ex attaccante del Crotone che calcia con il vesto di controbalzo scheggiando il palo Pordenone graziato ma siamo davvero vicini all'avvantaggio del Parma che è nell'aria e arriva puntuale al minuto a 67 la palla la palla arriva Pandev che calcia Perizan in qualche modo respinge ma sulla deviazione arriva il tap-in di Dennis Mann al minuto 67 è 2 a 1 Parma nonostante le proteste del Pordenone la posizione dell'attaccante giallo-blu è regolare Pordenone che poi fa anche Arachini perché pronti via dal cerchio di centrocampo Sabione calcia addosso a Vasquez che poi vince il rimpallo avanza e batte Perizan è al 69 il match è praticamente chiuso 3 a 1 con il gol del numero 10 c'è tempo però a 11 dalla fine anche per il poker Benetiziac va via sulla destra non c'è nessuno e allora fa tutto da solo Perizan non copre il primo palo e c'è quindi il gol del numero 17 finisce 4 a 1 capò da Archiviari in fretta perché adesso c'è il Cittadella torniamo sui quotidiani dalle pagine del messaggero Veneto ritorniamo su quelle delle Gazzettino e sempre a proposito del Pordenone vediamo il titolo fuga a Neroverde per un tempo poi Pandev rianima il Parma Pordenone praticamente perfetto nella prima metà di gioco con l'iserio che segna e Cambiaghi pericoloso nella ripresa il calo fisico e di concentrazione dei Neroverdi fa spazio alle incursioni del Macedone l'Udinese adesso sulle pagine del Gazzettino andiamo a vedere il titolo del fascicolo che apre scusate il titolo dell'articolo che apre il fascicolo sportivo a Verona il match della conferma Cioffi in settimana abbiamo lavorato sulla costruzione per segnare di più rientra Pereira ma dovrà faticare questo è il titolo e poi le prime righe guai a smarrire nuovamente la strada dopo averla ritrovata domenica scorsa contro il Torino la parola d'ordine questo pomeriggio al Bente Godi è continuità non ci sono se o ma che tengano e poi vediamo l'ex Tudor che dice è vietato fare errori anche qui le parole del tecnico abbiamo la fortuna di avere cinque giocatori forti davanti e che possono alternare che posso alternare a seconda di quello che vedo e a proposito di giocatori là davanti Beto il preferizionista secco da tre turni cerca un altro passo per essere completo nella pagina successiva quanti incroci con il Verona Guido su tutti Guido Lin tra gli ex più amati già un secolo fa i primi scambi tra giallo blu e bianco neri e allora andiamo torniamo adesso anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport andiamo a pescare anche qui la pagina in cui si parla della gara di questo pomeriggio tra Verona e Udinese ecco qua una doppia pagina vediamo se riusciamo a vederla assieme eccola qua ultima chiamata nel titolo di apertura per Genua giovane salernitana esperta scelte opposte chi si salva nel taglio basso invece vediamo stelle al Bente Godi Barac e Deulofeu servono i loro gol per dare la svolta in Verona Udinese sono attesi il ceco già otto reti e il catalano che è arrivato a sei ma si è bloccato e poi c'è tutto l'articolo chiudiamo la Gazzetta dello Sport chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di oggi e come sempre prima di salutarci andiamo a vedere assieme il palinsesto della giornata di oggi gli appuntamenti principali di questa domenica sul nostro canale con il TG che ritorna in diretta alle 12 poi alle 13.30 Udinese Stori alle 14 saremo in diretta per seguire la gara dell'Udinese a Verona con studio e stadio alle 18 i motori si raccontano alle 19 TG della sera 20.30 video news e alle 21 l'appuntamento è come sempre con l'altra domenica l'appuntamento dedicato all'Udinese e alla serie A della domenica sera assieme a Paolo Bargigia noi ci fermiamo qui per il momento allora grazie come sempre per la vostra attenzione vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro ancora una buona domenica un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV del tempo e stabilità nella giornata di domenica sul ferule Venezia Giulia il sole continuerà ad essere prevalente seppur con temperature massime più contenute rispetto ai giorni precedenti attorno ai 9-10 gradi vi anticipo che nell'avvio della nuova settimana aggiungerà gradualmente un'area di bassa pressione da ovest determinerà un incremento delle nubi lunedì e con anche precipitazioni principalmente sul comparto costiero ma ora andiamo con ordine vediamo nel dettaglio cosa ci attenderà tra Pordino e Udine una situazione meteo tranquilla domenica con ampie zone di sereno clima freddo specie nella notte al primo mattino i valori minimi saranno infatti prossimi o lievemente inferiori allo zero le temperature diurne attorno ai 9-10 gradi ora vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste il tempo sarà stabile ampiamente soleggiato con clima freddo ma senza eccessi le temperature massime in linea con le medie del periodo toccheranno picchi di 9-10 gradi è tutto per saperne di più scaricate e consultate come sempre la nostra app gratuita Trebi Meteo grazie a tutti 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 grazie a tutti